Buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa, oggi è sabato 13 febbraio 2021 in diretta In tutta la regione Marche sul canale 17 c'è occhio ai giornali, commenteremo tra poco alcune delle pagine che abbiamo selezionato per voi come facciamo ogni mattina ormai da 15 anni Allora partiamo dal santo, il calendario poi le previsioni del tempo, oggi si festeggia, la Chiesa Cattolica ricorda Sante Fosca e Maura Il sole esorgerà alle 7.13 quindi tra pochi minuti e tramonterà alle 17.37 È arrivata la perturbazione, è arrivata la neve, sta nevicando praticamente su tutta la regione Marche Fa un po' più fatica ancora in queste prime ore del mattino sulla costa adriatica Ma insomma nelle prossime ore probabilmente qualche fiocchettino un po' più corposo, forse lo vedremo nella costa Sentiamo subito il nostro esperto direttamente dalla protezione civile delle Marche, il nostro meteorologo Buongiorno, io già ho detto nostro, ho fatto tutto mio Ma insomma è un tono amichevole per dire anche grazie del vostro aiuto e della vostra collaborazione Prego Buongiorno a tutti, ci mancherebbe, è sempre un piacere, siamo qui per questo Sì, abbiamo visto che la neve è arrivata come previsto anche a basse quote Magari non è arrivata ancora sulla costa in Biancare Per il momento siamo alla situazione di nevischio Quindi evidentemente la temperatura nonostante sia attorno allo zero Negli strati superiori probabilmente è ancora un pochino troppo alta Tuttavia le previsioni sono quelle che abbiamo visto anche nei giorni scorsi Sono confermati, fenomeni nevosi fino a bassa quota Con accumuli significativi come abbiamo visto dalla zona collinare, basso collinare in su Qualche locale nevicata più consistente ci potrà essere nelle prossime ore anche lungo la fascia costiera Come abbiamo detto nei giorni scorsi gli accumuli sulla costa erano previsti comunque minimi Quindi tra 5 e 10 cm e questo rimane la previsione anche per oggi Poi da metà giornata situazione di miglioramento Probabilmente avremo anche le prime schiarite nel pomeriggio Sempre a carattere locale perché comunque rimarrà questa ventilazione orientale Che interesserà tutta la fascia costiera Già in queste ore i venti sono piuttosto sostenuti lungo la costa Si manterranno tali E per cui dovremo fare attenzione anche alle mareggiate che stanno interessando tutto il litorale Andranno avanti anche nella giornata di domani Giornata di domani che vedrà delle temperature minime piuttosto rigide Quindi attenzione alle gelate mattutine Saranno tutte attorno o inferiori allo zero E per quanto riguarda le nevicate i fenomeni nella giornata di domani Dovrebbero essere sporadici e interessare solamente il comparto montano Vogliamo vedere anche lunedì Ma insomma mi pare che lunedì poi la situazione torni normale insomma Tutto nella normalità Certo lunedì è la situazione di miglioramento Anzi con un cielo che sarà sostanzialmente sgombro da nubi Con qualche residuo da nubolamento Che potrà ancora venire in ingresso dal mare Ma senza precipitazioni di rievo Quindi situazione di miglioramento per lunedì e per la settimana anche Ecco siccome ho pesato tutte le parole per capire bene esattamente Qui sulla costa cosa verrà Lei prima ha parlato che nelle prossime ore 5-10 cm potrebbero esserci Ma 5-10 cm parliamo di così, non è poco Sì no Diciamo un palmo di neve però Così? Sì sì qui siamo La ventilazione al suolo è a componente orientale In quota abbiamo ancora una componente occidentale Il gioco della neve è molto sottile Ci vogliono basse temperature ma non troppo Ventilazione ma non troppa E comunque saranno fenomeni per l'appunto Che sulla fascia costiera potranno produrre degli accumuli minimi Poi da noi si dice sempre c'è il mare che scalda Quindi no? In qualche modo che può compromettere Anche se non è sempre così A livello di temperatura comunque si è E dipende perché è più che altro la ventilazione Se la ventilazione rimane molto sostenuta Può tenere i rimiscolati bassi strati E quindi inibire la formazione di neve Però al momento come temperature Diciamo prossimo al suolo siamo attorno allo zero Quindi sarebbe anche una temperatura buona per una nevicata Ecco, Lazzeri, intanto ringraziata Però volevo direle Ancora questo vento gelido della Siberia non è arrivato? O è questo? No, non è questo È questo? Beh, no, in realtà è proprio questo Nel senso che noi Cioè l'origine siberiana Poi è chiaro che ha fatto un lungo viaggio Prima di arrivare da noi Quindi noi non lo possiamo chiamare Burian Perché è un vento locale proprio di quelle zone là Ecco Quindi sì, sì, è proprio lui È un Burian addolcito insomma il nostro Via, dai, è un po' così Per fare un esempio È un po' come se nella penisola balcanica Parlassero di Garbino È chiaro, il Garbino è un vento a componente occidentale Ma noi gli abbiamo dato un nome specifico Perché è proprio delle nostre zone Il Burian è la stessa cosa È un vento tipico asiatico Che poi pian piano arriva anche sulle nostre regioni Ma a quel punto la connotazione è quella di un vento più freddo Sì, della Mora sicuramente Ma comunque sempre orientale Bene, grazie allora Marco Lazzari Abbiamo fatto anche un po' di informazione scientifica Che non guasta mai Abbiamo dato qualche informazione ai nostri telespettatori Tra l'altro la ritroveremo in un articolo del giornale Che leggeremo tra un istante Grazie e buon lavoro naturalmente a tutti voi E adesso invece andiamo Prima di leggere i giornali Vi ricordo che c'è il nostro gruppo O reporter di strada Che è ben nutrito Perché abbiamo 8 mila e passa iscritti Che stanno già inviando i loro filmati Le loro fotografie Quindi reporter praticamente in azione Come Cristian che da Saltara ci ha mandato questa immagine Del posto con la neve Già siamo nell'entroterra Chiaramente di Pesorubino Guardate quanto già sia presente la neve al suolo Qualche centimetro insomma Però ecco per dirvi Andiamo a vedere Antonio Antonio che ci ha mandato questo filmato Invece da dove? Da? Non ce l'ha scritto Non ce l'ha scritto Ma ecco comunque Scrivete anche per favore Da dove mandate questi video Vi ringraziamo Sono Credo forse sia No Non posso azzardare Perché non riconosco la zona Poi quando è bianco Sono tutti uguali Da Urbino Guardate invece a Urbino Quante Grazie a Noemi Quanta neve Già caduta in queste ore Una foto postata nel nostro profilo 6 minuti fa Qui siamo a Fossombrone invece Ecco grazie ad Andrea Anche a Fossombrone Vedete già anche al suolo Attaccato Ci sono diversi centimetri di neve Quindi attenzione Oggi è sabato Non si lavora Quindi se Si può evitare di uscire Credo che sia la cosa migliore da fare Ponte Murello Antonio ancora Ecco Qui siamo a Ponte Murello Così abbiamo Vedete quanta neve sta accadendo Anche da quelle parti Qui siamo Grazie a Silvia Ecco qui siamo più verso probabilmente la città Ecco un cartello Non sono riuscito a leggere Forse siamo dalle parti di Fano Più o meno Eccola qua Federica invece Montegiano di Monbaroccio Anche qui quanta neve è già accaduta Guardate Sulla ringhiera Sulla ringhiera Dell'appartamento Della casa Michela Michele invece da Centinarola Quindi qui siamo praticamente a Fano Un quartiere di Fano Vedete come già Anche qua La neve sta cominciando ad attaccare Allora Bene Noi ci vediamo qua Perché adesso ci sono i giornali Naturalmente Però vi anticipo già Che alle 7.30 La messa in diretta da Loreto E poi alle 8 Torneremo in diretta E vi racconteremo Con i nostri inviati Quello che sta succedendo Dalla costa Verso l'entroterra Quindi vi racconteremo In tempo reale E abbiamo bisogno Chiaramente anche Del vostro aiuto Come facciamo In queste occasioni Quindi oggi Staremo insieme In questa mattinata Una mattinata Che come abbiamo sentito Poco fa Dall'esperto meteo Della protezione civile Comunque vedrà Nevicate anche sulla costa Tra poco Fin verso mezzogiorno Sicuramente Questo aggiungo io Gli orari Non li ha detti lui Ma fin verso mezzogiorno Localizzate Ci saranno delle Interessanti nevicate Che vi faremo vedere E voi avrete la possibilità Di farlo vedere Alla comunità Di Fano TV Attraverso la Televisione Attraverso i social E i nostri portali Con le vostre Segnalazioni Le vostre foto E quant'altro Allora I modi Li conoscete Reporter di strada Oppure il 338 4968 250 Allora Chiuso Per il momento La parte Diciamo Della neve Anche se la ritroveremo Nei giornali Cominciamo a vedere Adesso le prime pagine Qui siamo Sul Carlino di Pesaro Dove In primo piano C'è La grande Vittoria Del VL Con Contro Sassari Epica VL Questo è il titolo Della fotonotizia E quindi la VL Che passa in semifinale In Coppa Italia Pesaro Batte Sassari Dopo una partita Incredibile E ancora Vaccini Numero verde Subito in tilt Questo è un problema Perché ieri abbiamo parlato Di questo numero A disposizione Dalle due del pomeriggio Per prenotare i vaccini Che partiranno Qui dalle nostre parti Il 20 di febbraio Ma in realtà Tutti coloro Che ci hanno provato Hanno trovato Grandi difficoltà Boom di prenotazioni Invece al computer 30.000 appuntamenti Pensati in 4 ore Ma il telefono Non dava risposte Allerta neve A bassa quota Scatta il piano Di emergenza Urbino Chiuse le scuole L'assessore Belloni Il pericolo vero Sarà il ghiaccio Sulle reazioni avverse Al vaccino Quindi gli effetti Del siero Sono ferme All'1% Questo lo dice La statistica Le donne Sono più colpite Degli uomini Sempre sulla prima pagina Del Carlino Il gruppo Marinelli Che realizza cucina Vuole comprare I capannoni Di Valentini Poi D'Afano Pretendeva soldi Accoltella la moglie Operaio arrestato E la politica Il momento sfortunato Del partito democratico Anche Pieri È positivo Al covid Lo sport Di taglio basso Serie C Fanno match salvezza Imola Tenta il sorpasso E poi la vis Nel gelo del Benelli Con la sorpresa Virtus Il Carlino di Ancona Il vaccino digitale Questa è la fotonotizia Primo giorno di prenotazioni Più di 30.000 Il sistema è andato in tilt Mentre La notizia In apertura Il titolo d'apertura Incubo neve Gelo Scuole chiuse Arriva Burian Ordinanze Dei sindaci di Ancona E di Iesi Piano di emergenza In tutta la provincia Il Corriere Adriatico Edizione di Pesaro Sempre a centropagina La fotonotizia Per la VL Da sogno E in semifinale Coppia Italia Sassa ribattuta All'overtime 115 A 110 Poi Marche gialle Spettro Microzone E i numeri Della provincia Di Ancona E la variante inglese Fanno paura Il rischio Di trascinarsi Tutta la regione C'è stato un incontro Tra il governatore E i sindaci Il governatore Che dice Monitoriamo Fino a domani Poi i dati All'istituto Superiore di Sanità Vaccini Invece E boom Di prenotazioni Qui di spalle Invece La svolta Sull'omicidio Di Rosina La figlia E la nipote Sono finite In manette La tanto attesa Svolta Per le indagini Nelle indagini Dell'omicidio Per l'omicidio Di Rosina Carsetti Arrivata ieri mattina I carabinieri Del comando Provinciale Di Macerata Hanno arrestato La figlia E il nipote Della 78enne Uccisa La sera Della vigilia Di Natale A Monte Cassiano Arianna Orazzi Ed Enea Simonetti Sono accusati Di concorso In omicidio Volontario E premeditato Poi sotto Il ladro bivacca A Pesaro Con le sementine E dunque Il DNA Della saliva Lo incastra Dopo Tanto tempo Laure Festeggiate Violando le norme 18 ragazzini Sono stati multati A Urbino Urbino Città universitaria E a Pesaro Burian Pronti ad affrontarlo Con la Task Force Task Force Antineve Si ligate No alle barriere E la maggioranza Fa il muro E New Jersey Sono impattanti E pericolosi PD e Forza Pesaro Attaccano L'opposizione Poi ruba il cane Di razza Per tenerlo A casa sua La cronaca Che tra poco Vedremo Sulle pagine Di Fano Ed eccolo qua Il nostro Meteorologo Marco Lazzeri La protezione civile Della protezione civile Delle Marche Che abbiamo appena Ascoltato In diretta Oggi Sulla pagina 2 Del Carlino Di Ancona Per parlare Appunto Di questa Tempesta Tra virgolette Di neve Che sarà però Mordi E fuggi Abbiamo già detto Ieri Che non sarà Nulla Di simile A quelle che abbiamo Già visto Parlando di Burian Nel 2012 Con il grande nevone Oppure il 2017 Dove le condizioni Erano diverse Lì La perturbazione Aveva messo La tenda E quindi è stata Dalle nostre Supra le nostre teste Per tanti giorni Qui invece sarà Una cosa Mordi e fuggi Il meteorologo Marco Lazzeri Della protezione civile Dice già nel pomeriggio Di domenica I primi raggi Di sole Ma c'è Il pericolo Del ghiaccio Previsti accumuli Tra i 5 e 10 cm In pianura E tra i 15 e 20 cm In collina Neve A Urbino Scuole chiuse Emergenza In provincia L'allerta Della prefettura Pesaro Mobilitata La centrale operativa Belloni dice Dopo il 2012 Adesso sappiamo Come fare Oltre 100 mila euro Per pulire Le strade Dunque Per oggi Nelle prime ore Di questa mattina È prevista la neve Lo dicono le previsioni Il 2012 Insegna Il sindaco di Urbino Maurizio Gambini Ha disposto La chiusura Per oggi Di tutte le scuole Del comune La prefettura Di Pesaro Urbino Ha riunito D'urgenza Ieri La protezione civile La polizia stradale Anas Comuni Vigili del fuoco Per mettere appunto Il piano neve Che contiene L'insieme Delle procedure E delle attività E delle attività da porre In essere Di fronte ad una criticità Alla circolazione stradale Determinata appunto Dalla neve Pensate che nel 2012 Ricorda il resto del Carlino Questa mattina Il comune di Pesaro Spese circa un milione di euro Per rimuovere la neve Dalle strade Il Corriere Adriatico Dedica la pagina 15 Dell'edizione di oggi Al maltempo Burian Pronti i mezzi Non stop E anche il ghiaccio È un incubo Da ieri sera Ha aperto il centro operativo Di Villa Fastigi Il sindaco di Urbino Ha chiuso le scuole Belloni Il 2012 Ci ha insegnato molto Mentre Primavera Dice Monitorate Tutte le strade Della provincia Vertice Con il prefetto Dall'autostrada E fino ai passi appennini C'è una serie di presidi Sul fronte Della viabilità Ma Lo abbiamo già detto All'inizio della segna Chi non ha necessità Di muoversi Di spostarsi con la macchina Oggi essendo anche Il fine settimana Può starsene tranquillamente A casa Allora Sulla pandemia invece Le marche restano gialle Siamo sul Corriere Con lo spettro Microzone Cinque città più a rischio Osimo Castelfidardo Loreto Iese Sassoferrato Sono i comuni Sotto osservazione Incontro Governatore Sindaci Monitoriamo Fino a domani Poi tutto passa All'Istituto Superiore di Sanità Quali sono Queste Cinque zone Appunto Queste cinque città L'abbiamo detto Osimo Castelfidardo Loreto Iese E Sassoferrato Sono i comuni Che preoccupano Preoccupano di più In questo momento Intanto le marche Restano gialle Ma attenzione Dice il governatore Acquaroli Che annuncia La colorazione Per la settimana Entrante Preoccupano però Le esplosioni Delle varianti In provincia Le microzone Sono in agguato Ogni decisione Adesso viene demandata A Roma Rischia tutta la Val Musone Quindi anche se La prossima settimana Le marche saranno Ancora in zona gialla Il governatore Acquaroli Raccomanda Lo facciamo noi Anche tutti i giorni Santi giorni Di mantenere distanze Di non Di non Di non Usare la mascherina In modo improprio Quindi con il naso fuori Eccetera Ma di usarla correttamente E poi di igienizzarsi Le mani Perché Quando ci sono i contagi Che salgono Quando una persona Si contagia Ovviamente Qualcosa vuol dire Che ha sbagliato Qualcosa vuol dire Che è andato Storto Incubo inglese Brasiliana Ma non si fanno Microzone Il Presidente L'Assessore Saltamartini E la Difuria In riunione Con i sindaci Di mezza provincia Si pensa a misure mirate Ma nessuno Vuole il colore Rosso Dunque La variante inglese E anche quella Brasiliana Preoccupano Così come L'impennata di contagi Che c'è Con un indice Di contagio Maggiore Soprattutto Nelle scuole E la Regione Marche Adesso Trema L'allerta È altissima Soprattutto Per quanto riguarda La diffusione Della variante inglese Maggiormente presente In provincia di Ancona A Castelfidardo E Osimo Che è quella In cui si registra Un aumento Dei casi Di contagio Il peggioramento Generale Dei contagi Che ormai Matematico Dalla scorsa Settimana In tutta la Regione Influirà Dunque Sulla trasformazione Arancione Delle Marche Non dalla settimana Entrante Ma dalla prossima Quindi Come dire Godiamoci Questa settimana Da qui A sabato prossimo Perché molto probabilmente La prossima ancora Saremo di nuovo Arancioni Perché i dati Sono questi La variante Sta contagiando In modo Veloce Perché questa è la sua peculiarità E quindi I dati Ci dicono Che i contagi Sono in aumento E quindi Con i contagi In aumento L'RT Eccetera Probabilmente Fra una settimana Torneremo Arancioni Speriamo di no Numero verde Esordio Caos Numero verde Per che cosa? Per le vaccinazioni Tante le prenotazioni Boom Di prenotazioni Online In sette ore Iscritti 35.000 Ultraottantenni Quasi il 30% Dei 133.000 Marchigiani Da vaccinare Ha già aderito All'operazione Poste italiane I disguidi Con il call center Sono determinati Da un problema Di linea Gli operatori telefonici Saranno disponibili Anche oggi E domani Quindi Se volete riprovare Al numero verde 800 00 9966 Provate Intanto il sito Resta sempre attivo Per accogliere Le nuove registrazioni Ora Tutti coloro Tutti gli ottantenni Che hanno Qualche nipote Che sbaletta Con il computer Ecco Si faccia aiutare E faccia la prenotazione Magari Passando attraverso Il pc E al computer Ora Gli over 80 Che non camminano Che cosa Si fa? Questa è la domanda Del Corriere di oggi Salta Martini Dice Le liste iniziano Il 20 Verrà aperto Un nuovo slot Composte E attivato Un secondo Numero verde Dunque Non soltanto Quello che vi abbiamo dato Anche ieri O adesso Ma ce ne sarà Un'altra Un altro Numero verde Che verrà Comunicato Variante inglese I focolai Infiammano L'Anconetano Quasi 180 Casi al giorno La provincia Del capoluogo Fattura il 45% Dei positivi Delle marche Sono questi invece Dieci comuni Della provincia Di Ancona Con più positivi Attuali La vedete La classifica La spostiamo Un attimo Così la vedete A colpo d'occhio Da Ancona Osimo Iesi Castelfidardo Senigallia Fabriano Loreto Falconara Sassoferrato Chiaravalle Queste sono le zone Dove c'è un aumento Consistente Appunto Del virus Intanto Sul vaccino Quello che hanno fatto I sanitari Si può già stilare Una prima Un primo parere Su quello che Sono state Le reazioni avverse Una prima considerazione Che è questa Che pubblica Il Carlino Pagina 3 Sulle reazioni avverse Solo l'1% Ha avuto qualche Disturbo Le donne Sono Le più colpite Quali sono Queste reazioni avverse Dolori passeggeri Mal di testa Cefalea Febbre Ma tutto risolto Nel giro di poche ore Un primo bilancio Tra i 2600 sanitari Vaccinati A Marche Nord Mauro Mancini Dice 5 casi di positività Dopo il siero Ma perché l'infezione Era precedente Alla somministrazione Vedete Ecco Anche questo Era un dato Che inizialmente Preoccupava Ma come spiega Simona Spagnoli Questa mattina Sul giornale 5 casi Di positività Dopo che era Stato fatto il vaccino Ma semplicemente Perché Appunto L'infezione C'era già prima E quindi Era in incubazione Quindi era là Le varianti Vanno anticipate Non inseguite Carlotti Dipartimento di prevenzione Dice Dopo i due casi Di inglese Potremmo essere costretti A creare anche qui Micro zone Più restrittive Cagliese Zona di Acqualagna Osservati speciali Particolari accortezze Sui contagi Perché? Perché Come anticipato ieri Il resto del Carlino Due persone Hanno Contratto il Covid-19 Con la variante Inglese Una ad Acqualagna E una Nella zona di Cagli Sono queste due persone Ora Loro sono state Individuate Siccome la variante Inglese Abbiamo detto Tante volte Ha Una velocità Di contagio Superiore Rispetto a quella Europea Del Covid Ecco Sarebbe bene Speriamo Che almeno Queste due persone Siano state Isolate In fretta E soprattutto Si siano rintracciate Le altre persone Con le quali Sono andato Hanno avuto Contatti Mentre Il momento Sfortunato Titola Del Partito Democratico Perché? Perché Anche Luca Pieri È risultato positivo Al tampone Quindi Doppio tampone Positivo per Pieri Molecolare Conferma L'antigenico Non è un periodo Proprio facile Per il PD Pesarese Mentre il partito Deve superare La devastante Sconfitta Nelle urne Delle elezioni Regionali Alcuni importanti Esponenti del partito Sono alle prese Con la pandemia Il Covid Non scherza Dopo aver registrato Il contagio Dell'ex presidente Luca Ceriscioli E quello Della neoconsigliera Regionale Michela Vitri Ora è diventato Positivo Anche Luca Pieri Presidente Da anni Di Aspes S.p.A. Dalle croniche Macerata Ma perché Il personaggio Lo conosciamo Tutti Soprattutto Gli sportivi L'ex Arbitro Anche di Serie A Maurizio Mattei Che A 78 anni Purtroppo È morto Anche lui Aveva il Covid Dal 1976 Era stato Direttore Della massima serie Poi Disegnatore Disegnatore Di A e B Il ricordo Di Sacchi L'allenatore Rigo Era il faro Della sezione Ha fatto crescere Tanti Tanti giovani L'avvocato L'avvocato Nascimbeni Aveva ancora Molto da dire In questo settore Specialmente Ai nostri Ragazzi Questa è la pagina Del Il nostro Spero che Sacchi Si arrivo Perché ho letto Un altro nome Gianluca Sacchi Figlio di Gilberto Ok Comunque È la pagina Del resto del Carlino Di Macerata Ok Andiamo avanti La pagina di Fano Invece si occupa Del Carlino Del Carnevale Carnevale Note E omaggio A Dante Prosegue la manifestazione In versione Digital Edition Tra le altre iniziative In programma Il recital Dedicato a Paolo E Francesca Lo stiamo trasmettendo In questi giorni Subito dopo il telegiornale Anche qui Lo ricorda Tiziana Petrelli L'appuntamento Sarà trasmesso Su Fano TV Sui canali social Dell'orchestra Tutti gli appuntamenti Ancora Ieri c'è stato Per esempio Il DJ set Di Giovannelli Re indiscusso Della Music House E poi Ci sarà L'orchestra Rossini Insomma Ancora altre Serate Che potrete vedere Sul nostro canale In tutta la regione Marche Dunque Fano Ruba Cane di razza Denunciata Un fanese Di 52 anni Nei guai Per aver sottratto Ad una famiglia Di pennabilli Un cane Un blitz Dei militari Con i colleghi Di Nova Feltre La donna Lo voleva come animale Da compagnia Però Insomma Se l'è portato via Un po' così Mentre Sulla pagina di Fano Del Corriere Carnevale privato Della creatività Arredi e maschere Erano possibili Qui c'è una nota polemica Di Alfredo Pacassoni Che critica La mancanza Di installazioni Che avrebbero dato Lavoro Ai carristi E sotto Invece Vende si sorrisi Una vita raccontata In poesia Alle 17.30 Claudio Pacifici Alla libreria Mondadori In piazza 20 settembre Parlerà Del suo libro Della sua raccolta Di versi Da Urbino Invece Feste di laurea Giovedì Di multe Norme anti-covid Violate La polizia Ne ha elevate 68 E ancora Sempre da Urbino Violazione Norme covid La polizia Ha fatto 18 multe A coltella La moglie Invece Arrestato Un operaio Di 35 anni Marrocchino Prendeva soldi Pretendeva dei soldi La donna ferita Fugge Con il suo bambino Dalla vicina Ok Non ci abbiamo Altro tempo Per leggere Le altre pagine Ma soprattutto Quelle di sport Ci fermiamo qui C'è adesso Come dicevo La Santa Messa In diretta da Loreto Poi ritorneremo Alle 8 Per aprire La diretta Di questa mattinata Che come abbiamo Già visto È caratterizzata Soprattutto dal maltempo Dall'arrivo Della neve Anche se La neve Già è caduta E sta cadendo Abbondantemente Nell'entroterra Ma la stiamo aspettando Anche sulla costa È tutto A tra poco